16esimo della ripresa, Chimaglia con estrema freddezza trasforma il rigore accordato dall'arbitro Panzino per un mani in area di scorsa. E' il gol che consente alla Lazio di laurearsi campione d'Italia con una settimana d'anticipo. Per la prima volta, nei suoi 74 anni di storia sportiva, la Lazio riesce a conquistare lo scudetto nel calcio che va ad aggiungersi a quelli conquistati in tante altre discipline. Per la partita con il Foggia, i bianco-azzurri si sono presentati nella migliore formazione. In porta Felice Pulici, 28 anni, nato a Sovico in provincia di Milano, sempre presente nelle ultime due stagioni. Per la sua continuità è stato selezionato tra i 40 per Monaco. Sergio Petrelli, 30 anni, di Ascoli Piceno, partito come rincalzo e riuscito a conquistare con una serie di prestazioni ad alto livello il posto in prima squadra. Luigi Martini, 25 anni, di Capannori in provincia di Lucca, punto di forza del centrocampo laziale, non ha potuto essere presente al trionfo finale per una lossazione alla clavicola destra riportata all'inizio della ripresa. Al suo posto è entrato Luigi Polentes, 29 anni, di Vittorio Veneto, giocatore di notevole esperienza, utilissimo in ogni ruolo difensivo. Giuseppe Wilson, 28 anni, napoletano, nato a Darlington, in Gran Bretagna. Atleta di grande temperamento e capitano della formazione bianco-azzurra, un posto tra i 22 per Monaco e suo. Giancarlo Oddi, 26 anni, l'unico romano della squadra. Insieme a Pulici, Wilson, Nanni, Garlaschelli, Chinali e Frustalupi, ha giocato tutte le partite consentendo raramente all'avversario diretto di andare in gol. Franco Nanni, 26 anni, di Pisa, un mediano d'attacco che in questa stagione ha dovuto sacrificare le sue notevoli possibilità realizzatrici a beneficio del gioco di squadra. Renzo Garlaschelli, 24 anni, di Vidigulfo in provincia di Pavia, è il secondo cannoniere della Lazio, sempre sottoposto a rigorosa marcatura. Contro il Foggia ha reagito ad un fallo ed è stato espulso. Luciano Recceconi, 25 anni, di Nerviano in provincia di Milano, infortunatosi a metà campionato e rientrato in tempo in squadra per portare il suo notevole contributo al successo finale. Giorgio Chinalia, 27 anni, nato a Carrara, basta il nome e i suoi gol per capire il motivo dell'affermazione raziale. E' il centroavanti della Nazionale, un punto di forza per Monaco. Mario Fustalupi, 32 anni, di Orvieto, è il regista della squadra, sembrava fosse giunto alla Lazio per concludere la sua attività, invece vi ha colto la vittoria più bella della sua carriera. Vincenzo D'Amico, 19 anni, di Latina, è la più grossa rivelazione della stagione calcistica, un elemento dotato di notevole tecnica, un pizzico di esperienza in più e la maglia azzurra sarà sua. Lo scudetto della Lazio si chiama anche, anzi, soprattutto, Tommaso Maestrelli, un allenatore diplomatico, signorile, sempre moderato nel parlare. Intorno a lui ha costruito una famiglia e l'ha condotta al successo.